Amiche e amici belli, buon pomeriggio, è il momento, è l'ora della cecagna, mi è arrivata una cecagna, e cosa avrei mangiato Lorenzo? Amica tanto, una buona mozzarella, più di latte, io le preferisco. Poi un cetriolone, no stretto a lungo, di paese, buono, tolto dalle piante della mia amica Titti. E poi che ci ho messo? Ah, cipollotto fresco, tagliato con la mandolina, ne vogliamo parlare, che buono! Adesso ho preparato anche le lenticchie, perché poi nel pomeriggio voglio preparare la mia amica Paola, l'impasto, le faccio un po' la mia amica Paola e poi il mio vicino Enrico, l'impasto per farsi i simili hamburger di lenticchie. E cosa mi serviranno? Delle due barattoli di lenticchie, due ovette, la cipolla, il cipollotto fresco, è veramente buono, con quel suo pizzichino, cipollotto è di troppo, eh! E la carota, una carotina cruda e poi un po' di origano, un po' di sale, un goccino d'olio, un pochino, mi servirebbe la farina di riso, non bisognerebbe mescolare se non con i piselli, per una questione proprio di meglio, di meglio reazione immunitaria. Ora, le farine è il mellesimo legume, quando si adopta un legume, quindi in questo caso lenticchie, avrei bisogno di farina, di lenticchie, ma negalo, anche perché io non mangio più le lenticchie, non mi appartengono, diciamo. E sapete che io seguo un piano alimentare che ha come riferimenti i gruppi sanguigni, e più mi informo, più seguo, più ascolto, più vedo le reazioni sul mio corpo e più sono soddisfatta, contenta, convinta e poi tutto così molto spiegato, molto razionale. Ed è così veloce nella comprensione, non è che il benessere, i benefici arrivano dopo miliardi di anni, immediatamente togli tutte quelle robe di là, inizia ad usare meglio queste. Perfetto, beata me, che avrei voluto cominciare da piccola questa cosa qua. Quanti accidenti in meno, quanti accidenti in meno. E va bene, e quindi preparo l'impasto per i miei vicini. E io per domani me lo fo di cannellini, cannellini e borlotti, e fagioli bianchi di spagna, corona, sono quelli per me più adatti, ma sapete che di borlotti, ad esempio, d'estate sono ghiotta, no? Borlotti, filetti di tonno e cipolla. Ma mi sono accorta che i borlotti in realtà incrementano reazioni non carine. Eh, così come altri fagioli, mentre i cannellini, guardate, manco li sento, abbinandoli con le stesse cose, eh? E i fagioli bianchi di spagna sono proprio, proprio meravigliosi. E andrei di nuovo a farmi un giretto dalle parti di Norcia, perché là mi ero approvvigionata di tutti questi fagioli molto grandi piatti, che ho testato, ho testato bene, preparandomi bene, perché anche loro saranno come quelli là. E infatti sì, sono belli perché sono anche colorati. Avevo trovato il fagiolo del papa, e non mi ricordo più, che assomiglia molto al fagiolo bianco di spagna. È molto più grande e un po' più martellato, diciamo. Ma quanto sono buoni i legumi, quanto sono felice, che mangio prettamente legumi, pesce, cicina bianca, un po' di rossa. Quando mi manca la rossa, me ne accorgo, quando iniziano a stare bene, che mi gira di più la testa, che mi si abbassa tanto la pressione, devo integrare. Le ciccine adatte a me sarebbero quelle di animali che non voglio mangiare. Questa mattina c'era l'offerta sulla ciccia di coniglio, ma io mi sento una cannibala col coniglio. Con le altre cicce no. Anche perché ho notato, io sono stata vegetariana per diversi anni, e ho visto il mio fisico, mi ricordo le patologie, ero molto più giovane, quindi tante patologie non sono date dall'usura, ma sono proprio date dalle relazioni del nostro corpo agli alimenti che non si fanno per lui. Siamo convinti che mangiare tutto e mangiare vario sia ottimo. No, mangiare quello che fa bene e chi ha potuto seguire questa cosa con occhio medico, con occhio attento, con occhio di persona seria, che vuole il benessere delle persone, l'ha potuto constatare. Ed è una risorsa meravigliosa questa, eh. Allora, detto ciò, ho una cegagna, ho una cegagna, ho mangiato un semplice, è vero che invece a Viterbo non ho mangiato un semplice. Ah, mannaggia, è la mia gola. Speriamo che non mi mandino all'inferno, proprio non mi piace all'inferno. Ma se mi dovessero mandare nel purcatoio, io credo che mi metteranno avanti a vetrine di cibi dolci, ma anche salati, guardate. Oh, sono stata bene sotto i portici, anche perché poi la mia libreria è poco distante. Poi mi è venuta l'ispirazione di chiedere a un edicolante se non si sa mai nella vita come poteva farmi avere Marie Claire idee. Sapete che io ho difficoltà in nessuna edicola a Viterbo di quelle contattate finora, di quelle consultate. Fino adesso mi ha mai dato risposta positiva, no, i nostri distributori non ce ne ho, non ce ne ho, non ce l'approvvigiorano. E invece questo signore intanto l'ha trovato, non mi ha preso per pazza. Ha detto, guardi, che è in francese, è un'edizione solo in francese, è un bimestrale, una volta era trimestrale, forse all'inizio credo anche semestrale, ma non mi ricordo in preciso. Però trimestrale sì, lo è stato per tanti anni. E mi ha detto, signora, guardi, io chiedo, se mi fanno la spunta vuol dire che sì. Guardi, mi ha detto che io torno presto, tornerò presto anche perché ho ordinato un libro e quindi entro questa settimana e lo avrò. Ma io sono in balia degli operai in casa mia, oggi avrebbero dovuto venire, manco a concludere, a tappare un po' di via e poi dovrei rimanere con un buco lì e testare, vedere se quanto rimani sotto a quel buco, si mantiene asciutto oppure no. per me è rimasto bagnato a tale e quale, già ancora in nottata. Invece mi ha detto, guardi che domani mattina non adoperi, meno male che mi ero fatta la doccia prima che arrivasse ieri, mi ha detto, non puoi adoperare niente, solo lo sciocone perché è uno scarico diverso, ma né vasca, né water, scusate, né bidet, né lavandino per almeno tutto domani. Taci tu, quanto meno male che sono stata svetta, no no, mi faccio la doccia e vediamo perché c'è tutta una roba di scarichi da sistemare, i tubi rotti, vabbè. E quindi mi lasceranno questa cosa aperta, io ci avevo paura questa notte, mi usciranno delle bestie, io ho pensato tutto pace, poi un puzzo che esce da là, mi hanno messo il piatto doccia nuovo con una specie di sifoncino, ma secondo me non funziona, comunque. Guardi, c'è anche questo pezzo perché se non dovesse funzionare così, se dovessimo aprire l'asse, se dovessimo tappare lì, dovremmo mettere questo qua, va bene, lo dico anche a voi, lo metto qui nell'ingresso in questo cassettino perché io non mi ricordo dalla sera al mattino, così facciamo anche da lì. E quindi stamattina mi sono detto, vado a Viterbo, sono andata a ritirarmi questo giochino e poi ho detto, no no, aspetta un po', mi sono ordinata un libro, già che ho questa estate così presa dalla tessitura, delle mie lezioni di tessitura, c'è una collana molto bella, io ne ho già due libri, non parla di queste cose qua, però può essere utile, è uscito un libro che è una via di mezzo, diciamo, non è un manuale, quindi quando mi arriverà vi farò vedere lui e poi vi farò vedere gli altri che ho già della medesima collana e poi sapete, lo sapete o non lo sapete? Non uso poi libri di testo, i manuali classici, uso anche quelli, però per aprire elementi e lanciarle verso mondo libero della creatività, ecco, uso anche altri testi con immagini per stimolare proprio quella vena creativa, il ragionamento, i collegamenti, sono nata maestra e non lo sapevo, mi piace, mi piace vedere le persone che comprendono e che si appassionano, mi esprimo nello stesso modo con tutti? no, sono contenta, no, e vabbè, è una cosa che mi appartiene e questo non ve lo riconosco, eh, ah, e mi piace mettere le persone a proprio agio, che si possano abbandonare anche affrontando le proprie incertezze, le proprie titubanze, le riottosità, le paure, ecco, e invece vedere che, ovviamente per ogni persona ho un modo di proporre questo piuttosto che quest'altro, nel medesimo argomento, eh, quest'attrezzo piuttosto che quello, quello manco te lo fa vedere, no, faccio vedere tutto, ma, eh, cercando di capire la persona, quindi evitando spaventi, dico, oh no, se è così allora io non sono mai all'altezza, sapeste quante volte me lo dicono gli adulti? e con i bambini mi è capitato una volta sola, e mi dispiace perché ho un bambino al quale tengo tanto, e niente, se, l'ho visto proprio che stava male, stava male nel gestire le manine, eppure è un bambino molto intelligente, che però è cresciuto più col telefono in mano, che con dei giochi pratici, poi ha giocato e gioca, per carità, la cameretta è piena di scatole di giochi, però poi è quello che viene mancare, il gesto piccolo, le dita che si muovono nel piccolo, che gestiscono piccole superfici, piccoli movimenti, quella precisione, il tanico, visto no, noi abbiamo subito cambiato aria, gli avevo regalato proprio un piccolo telaio, io ho detto doppio, due telaietti, era una cosa molto carina, un'opportunità di Tiger, e lui era affascinato da tutto il mio mondo, gli era proprio piaciuto un sacco, vedere i libri, vedere i colori, i materiali, è un bambino che ho conosciuto presto, quando mi sono trasferita qua, e quindi avevo pensato che poteva anche andare, gli ho sempre regalato dei giochi, dove potesse condividere del tempo con altri bambini, poi due a un amico del cuore, con il quale va a scuola, fa tante attività, fa calcio, anzi quest'anno mi sa che sono separati, perché uno adesso appartiene a una squadra e uno ad un altro, però ecco, è un bambino che comunque socializza e ha una cerchia di amici, quindi bello sia il gioco che possa praticare in autonomia e in solitudine, perché i bambini o sono veramente troppo soli o non stanno stare da soli, ecco quando stanno da soli cosa gli sta il telefono, o gli si apre e gli accende la televisione, è roba terribile, invece niente telefono, niente televisione, inventati qualcosa, hai i tuoi giochi, vai a vedere cosa puoi fare, poi gli si danno anche due dritte, se le dritte non vanno bene, arrangiati, ah io ma no, io ma cosa faccio, tapparsi le orecchie, senza cedere, non si deve cedere, vedete che poi le risorse, quella si chiama, aspettate, com'è che si dice, oi mamma, spirito di conservazione, ecco vedi, se non vuoi soccombere, datti da fare, trovati qualcosa, qualcosa di divertente, poi si partecipa anche un po', ci si rende anche un po', complici, no Davide, però poi partono da soli, se ci fate caso, e va bene, io ho avuto fratelli piccoli, dopo di me, state tranquille, che pur di non avere tre piedi, quando c'era magari da studiare, tre piedi nel senso che, e poi qualcosa come, e cosa facciamo, ce ne avevo due in camera con me, i più piccoli, i gemelli, dieci anni da me a loro, quindi voleva dire, essere alle medie, avere undici, dodici anni, avere dei bimbetti di uno, due, tre anni, poi li attaccati alle sottane, ecco, non era una cosa semplice, soprattutto dormirci, anche perché, il maschio dormiva, avevamo una camera, con un letto a castello, e un mobile letto, che mi ha sempre fatto una paura, e poi ci ho dormito un sacco, con la mia bambina da piccola, quando mi sono trovata raminga, senza una mia casa, senza, la mia bambina è basta, il mio fagotto, e poi ti ho intanto, il mio letchino per un po', e, e mio fratello sbatteva la testa di notte, sa, diceva una paura, che si chiudesse tutto il letto, che se lo trovasse in collo, che guai, mamma mia, che lavoro, e quindi, dormire con due fratellini, è una cosa bella, fare la sorella maggiore, è una cosa bella, trasforma in persone, più responsabili, dà un senso, alle nostre azioni, quando ci si rende conto, che si diventa un esempio, se lo fai te, lo fanno anche loro, quindi se te vuoi fare la furbata, ti piacerebbe fare la furbata, e poi dici, ma cavolicchi, però quelli mi vedono, mi sentono, mi replicano, e allora ci rendiamo conto, che stavamo facendo una cretinata, non la vogliamo proprio fare, anche se ci scoccia, perché avremmo voluto farla, la cretinata, è così, e quindi sono contenta, di aver avuto dei fratelli più piccoli, anche perché, finché non sono arrivati più piccoli, a me con gli altri troppo vicini come età, non mi ha dato la sensazione, non ho vissuto la realtà di sorella, quando si è tanto vicini, e si è in tanti, o si diventa molto complici, o si diventa nemici, eravamo nemici, ve lo dico proprio a tutti, anche perché avevamo degli approcci diversi, delle figure di riferimento diverse, perché? Perché venivamo un po' smistati, quindi c'avevamo la mia nonna materna, mio fratello c'aveva quella, e quindi poi, eravamo, quando eravamo tutti insieme, certi parapiglia, i maschi, due dopo di me, fetenti, rompi scatole, rompi tutto, sapevano che voi tenevate qualcosa, state tranquilli, che quella qualcosa, diventava frantume, briciola, danno, ecco, li ho odiati, i miei fratelli, quando uno tirava la testa, e l'altro il corpo della mia unica bambola, a spezia, perché dai miei nonni, avevo qualche altra cosa in più, anche se non ho mai avuto, mai desiderato di avere più bambole, la bambola era proprio come l'amico immaginario, che invece te l'aveva stitizzi, proprio, e quindi, quando me l'hanno sbraccata, la mia bambola, a parte averli menati come degli orsi, proprio, non si contavano i piedi e le mani, perché non avrebbero dovuto farlo, però poi è rimasta rotta, e me l'hanno buttata via, che nessuno me l'ha cucita, che si poteva anche in qualche modo aggiustare, la mia povera bambola decapitata, e quindi, non te ne tiene la larga da certi fratelli, e invece quei più piccoli, ti avvicini, se li vuoi vicini, poi c'era un'altra, a parte i gemelli, poi c'era l'altra, diciamo, parliamo di bambini, dell'81, scusatemi, del 71, quindi otto anni di differenza, sì, però lei dormiva in camera con la maggiore, quindi, era meno gestibile, poi sono uscita di casa molto presto a lavorare, ma sono uscita di casa anche molto presto a vivere, quindi insomma, mi è mancata quella parte di sorella maggiore, ero molto protettiva con i miei fratelli piccoli, ma gli ho fatto fare sempre un sacco di cose, ecco, a me i miei fratelli hanno fatto mongolfiere, abbiamo fatto, ma tante mongolfiere, abbiamo, poi li abbiamo proprio dato via, abbiamo fatto gite, picnic, me li sono portati al cinema, non so se se lo ricordano, ma è con me che hanno visto certi film musicali, tipo West Side Story, che poi magari si, mi devono piangere, quanti anni avevo quando ce l'ho portata, io non lo ricordo, e, e sì, me li sono portati a spasso, me li sono portati al circo, dove ho preso uno schiaffone da una scimmia, e glielo ho anche reso, perché sapete quando girano, nei momenti un po' di pausa, no, nei circhi, così, vi dico, fate la fotografia con gli elefanti, fate la fotografia con la scimmietta, se ci mancava solo, già ero, le avevo portate al circo con le mie mance, di quando lavoravo, e quindi, se ci ha occore, e allora quando ho detto, no, non voglio la fotografia, ma i miei fratelli ne manco, gliene fregava niente, sinceramente, la scimmia mi ha dato uno schiaffone, e io glielo ho reso pari pari, ma una sberlona gli ho dato, che il proprietario, tutto sguardo, manco mi ha chiesto scusa, ma anche i segni delle unghie, mi erano rimasti in faccia, tutto il circo a ridere, anche io ho riso, pensando allo schiaffone della scimmia, non sarà stata colpa sua, ma non mi importa, lei me l'ha dato, lei mi se l'è beccato, oh, allora venite qua, abbiamo fatto un sacco di giochi, abbiamo, vabbè, abbiamo insegnato a ricamare, abbiamo insegnato a fare male, abbiamo spinto nel fare, no, a usare la carta igienica, anche la carta, sì, non solo le rotole, abbiamo fatto di tutto, colorata la pasta, fatte le collane, poi per fortuna con noi, stava spesso una zia, che adesso purtroppo non c'è più, che è venuta a mancare, che aveva 37 anni, ed è uno proprio dei miei dolori più grandi, per me era la sorella, lei era la mia sorella maggiore, di riferimento, nove anni passavano da lei a me, dieci dai più piccoli, quindi potete immaginare, tante cose ho condiviso con mia zia, che i miei fratelli no, e la zia era la zia creativa, quella che dipingeva, che faceva un sacco di cose, e lei giocava con noi, giocava con noi, giocava con i bambini, quindi i nostri bimbi, abbiamo proprio, li abbiamo voluti tirare su, facendo, giocando, muovendosi, e non vi ricordo, anche se anche a Gabriele, ma a Ilaria, ad esempio, ha insegnato a tessere, e sono, non so se lo ricorderò ancora, perché non mica tanto tempo fa, quando abbiamo condiviso bottega, gli avevo anche regalato, il mio primo telaio bello, mannaggia, che brutta fine che ha fatto il mio telaio, che mi è costato un botto comunque, e vabbè, e allora venite qua, che vi racconto altre cose, sapete che poi vi porto un po' sempre a casa mia, eh, caffettino, non lo so, adesso mi berrei del tè, ho bisogno di liquidi, mi fa male la testa, mi hanno pizzicato degli insetti, e io, perché poi mangio le cretinate, e il mio sistema immunitario, è già sotto stress, mi pizzacano insetto, e divento un mostro, un prurito, adesso si stava già calmando, devo andarmi a comprare la mia pomatina a cortisone, perché, sì che viaggio sempre con le pastiglie, però, ecco, in questi casi, e va bene, noi, purtroppo i repellenti, dovevo ricomprarmi l'odio di Nenna, che puzza da morire, però gli altri repellenti, mi fanno, mi fanno reazione, e quindi, no, anche no, poi ho l'animaletto qua, che è, ogni tanto un cagnoletto, ho visto le cazze, c'è poco da fare, anche il gatto a volte, oh, vabbè, il mio gatto, quanti baci su quel naso, su quel muso, tra gli occhi, e, e quindi, no, è meglio di non evitare le cose più fredenti, la mia bimba dorme qua, stamattina però, non l'ho portata con me, a Viterbo, l'ho lasciata a casa, avevamo, siamo uscite pressa, sette e mezza, otte e notte, otte e mezza, che eravamo, no, prima di otte e mezza, mi hanno dato anche un passaggio, tra l'altro, dei vicini, adesso mi ha chiamato un gruppetto di persone, vieni con noi la sera, vieni qua, mi portano, mi ero portata la sedia, ieri sera invece, mi hanno tirato fuori una loro, va bene, ieri però ero proprio stanchissima, io mi sono intrattenuta poco, ah poi vi faccio un altro vocale, dove vi faccio vedere cosa mi è stato regalato ieri sera, va bene, adesso poi non è che volevo fare chissà quale chiacchiera, però abbiamo parlato di ordito, Lorenzo, tanto ne fate di avanti minuti, allora, ieri abbiamo chiacchierato su quel telaio a cornice dell'Ikea, peccato non averli più, perché veramente è un ottimo strumento di lavoro e di gioco, e questa mattina sono andata in libreria, a ritirarmi questo, perché mi ricordo di averlo visto, poi ho chiacchierato di altro, ho parlato di altro, mi sono ordinate i manuali, e niente, questo stava in alto da una parte, non l'ho preso, sono stata proprio tonta, ieri ho chiamato, ho detto scusatemi, ma ce l'avete ancora quel telaio rotondo di legno? Sì signora, oh e quanto costa? È sempre bene chiedere quanto costa, io vedo tanta gente che compra senza chiedere quanto costa, io chiedo quanto costa la roba, poi, mi ha detto, tot, allora è mio, mettetemelo da parte per piacere, che non so quando posso venire, perché sono sotto scacco io, dei miei operai in casa, ma prima o poi arriverò, signora non si preoccupi, è suo, e già stamattina, ah ma è qua, allora come fate? Ho fatto che mi hanno dato una sola nel pomeriggio, e quindi mi sono spicciata a venirmi a prendere, ecco, e così ho anche parlato con l'edicolante, e speriamo che mi dia una buona notizia, poi ho visto che è uscito più maglia, ma c'era anche un più maglia speciale, come si chiama lì all'edicola, e allora più tardi, tanto devo andare a comprare qualcosa che non mi ricordo, ma poi mi verrà in mente, e quindi passerò dalla signora dell'edicola, prima di farle un corno, e vediamo se uno è un remake oppure no, e se è un numero speciale, e vediamo l'altro, uno è celofanato, quello speciale, l'altro no, e quando sono celofanati io provo sempre in paura, ma ecco, ieri abbiamo parlato di orditi, e questo è un ordito, gli orditi cosa sono? L'ordito è la struttura di un tessuto, gli orditi corrono dritti, però questo è il circolo, ma è uguale, le amiche che sanno ricamare, che si occupano anche di ricamo, di sfilature, che è un ricamo che io amo tantissimo, la sfilatura è così vicina alla tessitura, che devo dire, che forse forse, ecco, mi sono innamorata delle sfilature, del ricamo sfilato insieme al ricamo, appunto smerlo, il dipur, e con la tessitura, proprio fru 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 fru, sono fatta tutta d'amore, d'amore, sono piena d'amore, e quindi, i ragnetti, per fare i ragnetti, bisogna attendere dei fili, sui quattro lati, di quello spazzetto, che si crea in un angolo, quando si fa tutto, gli ordini, e poi si opera intorno ai fili, bene, questo è come se fosse un ragnetto, in un angolo, del vostro ricamo, parlo alle ricamaglie, ai ricamaglie, ma anche agli altri, e quindi, ecco qua, abbiamo un ordito, ovviamente, noi andiamo ad operare, tutto intorno, ma potremmo anche in questo caso, lavorare a sezioni, quindi partire dal centro, verso l'esterno, fare una sezione, farne un'altra, separata, farne un'altra, farne un'altra, farne due, fare, lo chiamano,